Il treno regionale di Trenitalia, delle ore 8 e 33, proveniente da Luca, arriverà con 15 minuti di ritardo per un basto... Il treno regionale di Trenitalia, delle ore 8 e 34, proveniente da Luca, arriverà con 15 minuti di ritardo per un basto... Il treno regionale di Trenitalia, delle ore 8 e 34, proveniente da Luca, arriverà con 15 minuti di ritardo per un basto... Il treno regionale di Trenitalia, delle ore 8 e 34, proveniente da Luca, arriverà con 15 minuti di ritardo per un basto... Il treno regionale di Trenitalia, delle ore 8 e 34, proveniente da Luca, arriverà con 15 minuti di ritardo per un basto... Il treno regionale di Trenitalia, delle ore 8 e 34, proveniente da Luca, arriverà con 15 minuti di ritardo per un basto... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti